Nasce il nuovo polo didattico per le professioni sanitarie salernitane grazie all'intesa siglata questa mattina fra l'università e l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona, soddisfatto il rettore dell'Ateneo Aurelio Tommasetti. Noi abbiamo puntato come poli per le professioni sanitarie, per le lauree triennali, che per noi sono importantissimi perché non esistono studenti, una gerarchia tra gli studenti, tutti gli studenti per noi sono importanti. Abbiamo puntato su due grandi poli di aggregazione, uno che è quello di Baronissi, che ha aule ovviamente dedicate a questo tipo di attività, e l'altro invece che è quello del Ruggi. Abbiamo chiesto dall'azienda ospedale di poter cofinanziare gli interventi per creare questo polo universitario didattico per le professioni sanitarie. Ci siamo riusciti con un duplice vantaggio, uno che siamo tutti in aule tra di loro aggregate, funzionali e moderne, anche parametrati a quelle che sono le esigenze da didattico, quindi non grandi aule ma aule per i numeri appropriati. L'altro grande vantaggio è che siamo nel cuore dell'ospedale. Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, Vincenzo Vigiani, che non si sottrae anche ad una riflessione sulle difficoltà dettate dall'entrata in vigore della legge 161. Credo che nel futuro si avranno ulteriori occasioni in cui sarà possibile ribadire questa sinergia e questa collaborazione proficua. Tra l'altro questo è un ospedale, come ben sapete, con un pronto soccorso e con un'area dell'emergenza urgenza che è preponderante e questo quindi veramente ci mette in ginocchio. Stiamo cercando di lavorare di intesa con la regione per cercare di minimizzare questi sviluppi, ahimè, complicati da gestire.